da governarsi anche tenendo conto di quelle che sono le legislazioni oggi esistenti. C'è molto da fare in questo senso, poi a questo si sono sovrapposte inefficienze nel corso degli anni e un po' tutti i romani hanno la loro responsabilità, ognuno di noi, perché siamo tutti bravi a criticare qualcosa che non va, quindi se una macchina ci blocca il nostro parcheggio ci lamentiamo, ma poi noi magari parcheggiamo in seconda fila, devo fare una cosa molto veloce, solo un attimo, il nostro è un attimo importante e quello dell'altro è un attimo condannabile, credo che quindi il ragionamento sia profondo e qui ci sono dei problemi, la gente è passata attraverso varie fasi, con la nostra associazione in questi tre anni e mezzo abbiamo dialogato molto con le persone, che cosa registriamo? C'è una parte importante della popolazione arrabbiata, ormai talmente esasperata per cui qualsiasi cosa è la classica goccia che fa traboccare il vaso e purtroppo di problemi ce ne sono molti, ma c'è una cosa ancora più grave, c'è molta gente che è rassegnata, che alle nostre proposte ci dice ma tanto non credo che si possa fare, ecco questa è la vera battaglia che bisogna fare, non ci si può permettere questo lusso di rassegnarci, dobbiamo guardare oltre, dobbiamo pensare a una politica con la P maiuscola.